Nicole Kidman, ecco perché il mio matrimonio con Kate dura A 50 anni, Nicole Kidman rimane un'icona di bellezza, grazia ed eleganza. Sposata con il cantante Kate Urban, ecco svelato il segreto del matrimonio tra le due star. La storia di Kate e Nicole. Amore e condivisione, esperienze in comune, solidarietà, stima, ma, soprattutto, un luogo sicuro dove rifugiarsi e gettare la maschera indossata tutti i giorni. Un passaggio importante questo in una relazione, tipico delle storie mature, quando due persone sanno già quali sbagli cercare di non commettere e come impostare il rapporto. E questo traspare dalle parole di Nicole Kidman, la splendida attrice 50enne sposata da 11 anni con il cantante Kate Urban. Nonostante sia passato ormai molto tempo dal primo appuntamento e dal fatidico sì, Nicole e Kate sembrano sempre innamorati come il primo giorno, a ogni red carpe e a tutte le apparizioni pubbliche, dal loro sguardo si sprigiona un sentimento incontenibile, colmo di passione e devozione. Eppure sembra che all'inizio la star più eterea di Hollywood abbia dovuto penare per vedere coronato il suo sogno, avevo una cotta per lui, ma non era interessato a me. Non mi ha chiamato per quattro mesi, ha confidato all'Ellende Genere So Show. Ma qual è il segreto del loro matrimonio? Lo ha rivelato la stessa Nicole in un'intervista a cuore aperto. Il segreto del matrimonio perfetto. . Qual è l'ingrediente segreto che permette al matrimonio di Nicole Kidman e Kate Urban di essere così perfetto? Semplice, quando si trova con lui, l'attrice non deve fingere di essere qualcuna che non è, ed è libera di lasciarsi andare e mostrare la sua vera personalità fatta di cicatrici, insicurezze e tanti dubbi. . Kate mi dice spesso, se sei scossa e ferita, io sistemerò le cose per te, che è una cosa bellissima. Gli hanno sempre detto, sei così forte. E lui dice, non è quello che voglio per te Nicole. Non hai bisogno di farti venire la pelle dura. Credo che stia tutto nell'avere un luogo sicuro dove amarti, e poter versare le tue lacrime. E così posso tornare a essere aperta, curiosa e piena di speranza. A volte mi capita di essere ferita e un po' danneggiata, ma mai con una spada del tipo sto cercando vendetta. Perché non è una cosa che mi interessa. Non voglio nemmeno recitare in film che trattino questo tema. Cerco di girare pellicole che parlino di donne che, in qualche modo, trovano la loro strada. Ambasciatrice per i diritti delle donne. Non solo attrice, Nicole Kidman è anche ambasciatrice dell'ONU per i diritti delle donne nel mondo. La star ha deciso di voler a tutti i costi utilizzare la sua popolarità per dare voce a chi ne è sprovvisto e cercare di migliorare il mondo in cui viviamo. Ancora non riesco a capire come sia possibile che semplicemente per il fatto di essere nate donne si corra il rischio di rimanere vittime della violenza più orribile e generalizzata del nostro tempo. Una donna su tre incontrerà una qualche forma di violenza nella sua vita. Molte di queste violenze passano sotto silenzio. Quello che cerchiamo di fare è di dire che è una questione di cui ci dobbiamo preoccupare. Non è difficile capire perché Kate Urban sia perdutamente innamorato di questa donna meravigliosa. .